La lite è a Roma, i protagonisti e il motivo del contendere sono padovani. Non si placca la polemica tra il capogruppo della Lega al Senato Massimo Bitonci e il ministro allo sviluppo economico Flavio Zanonato sull'ufficio aperto dal di Castero nella sede della prefettura in piazza Antenore. Forse l'ex sindaco di Padova pensava di chiudere il caso con la nota diffusa oggi. Non c'è nessun ufficio del ministero dello sviluppo economico, si leggeva. La prefettura di Padova ha messo a disposizione un locale a costo zero come punto di appoggio per gli impegni istituzionali nei giorni festivi. Durissimo poi era stato il commento del segretario del PD padovano Piero Ruzzante, secondo il quale Bitonci è riuscito ancora una volta a superare il limite di ogni decenza. Da ministro degli interni Maroni aveva due uffici nella prefettura di Milano, eppure Bitonci non ne ha mai chiesto le dimissioni. La risposta del senatore non si fa attendere. Ruzzante del ragioniere ha solo il titolo perché non ha mai lavorato in vita sua. L'impressione è quella di aver sorpreso un bambino con le dita nella cioccolata. Quindi a Zanonato si annota tutti i suoi incontri su Twitter perché non c'è traccia di uno all'ufficio della prefettura padovana. Intanto dal meeting di comunione liberazione a Rimini Zanonato lancia segnali positivi. Gli indicatori dicono che l'economia sta finalmente per ripartire. E ancora il governo troverà il modo di togliere l'imu sulla prima casa e di abbassare il costo dell'energia elettrica. Stasera Zanonato sarà ad Asiago per un'intervista pubblica col direttore di Rete Veneta Luigi Bacialli. Grazie.